Mi piace osservare, analizzare, sentire e valutare ogni ingrediente in maniera quasi ossessiva. Lo dice Claudio Ruta, ragusano doc, 44 anni, è una stella Michelin al ristorante La Finice di Ragusa. E gli ingredienti che gli piace osservare e usare vengono da quell'angolo di Sicilia, reso famoso da Camiglieri e soprattutto dalle riprese tv delle inchieste di Montalbano. E così gli arancini sono come quelli fatti da Adelina, che danno il titolo ad una raccolta di racconti del commissario. L'ha chiamato arancino lungariuso e dentro lo scrigno di riso ci ha messo la guancia di vitello e la provola fumicata dei nebrodi. Delizia del palato. E dato che Montalbano va pazzo per le triglie, in suo onore lo chef propone anche le triglie in crosta di cuturro, una polenta fatta con il grano duro con dentro il caciocavallo ragusano. Non manca il dolce delizia dei sensi con una granatina di carrube che accompagnano frittele di ricotta e scaglie di cioccolato di modica. Un menù che emozionerà e delizierà i milanesi nei prossimi giorni. Anche questo è promozione del nostro territorio.